Svolta nel caso dell'assalto alla vodcheria, l'obiettivo sarebbe stato Simoncino, un ultras giuventino di estrema destra appartenente a tradizione, gli ex fighters. Una ventina di ragazzi incappucciati con indossi passamontagna, che la notte di sabato 19 maggio hanno distrutto il locale di Corso San Maurizio 65, avrebbero avuto uno scopo ben preciso, tesi che da subito aveva portato al tavolo degli inquirenti uno dei due titolari, Ferruccio Borio, il quale ha sempre negato la possibilità di rivendicazioni collegate a loro. Gli agenti del commissariato d'Oravanchiglia, insieme con gli uomini della Digos, stanno cercando di ricostruire quei dieci minuti di pura violenza, che hanno dato vita a una guerriglia armata con mazze da baseball, spranghe e pistole ad aria compressa, e portato all'incendio di un'Alfa GT, parcheggiata lì davanti, e della madre di uno dei due proprietari. La voce che circola tra la quarantina di clienti presenti al momento dell'attacco è assai dettagliata. All'origine dell'assalto ci sarebbe una faida tra un ultras giuventino, Simoncino, appartenente a un gruppo neofascista, con una banda di estrema sinistra che si appoggia a un centro sociale. Simoncino, che secondo alcuni testimoni graviterebbe intorno agli ambienti di Casa Pound, sarebbe stato vittima di un vero e proprio pestaggio, come confermato dalle macchie di sangue ritrovate nell'androne del cortile accanto al locale. La voce dell'assalto si sta diffondendo tra i membri dei centri sociali. Alcuni di essi si starebbero vantando della distruzione del locale. La soluzione al caso potrebbe essere quindi più vicina del previsto.